E adesso parliamo di sport, momento difficile per il Castellammare Calcio a 5 nel campionato nazionale di Serie A2 di Fusal femminile. Le Rosso-Blu dopo il brutto KO per 7-0 di due settimane fa a Napoli, ieri pomeriggio sono state sconfitte per 5-2 alla Mezzia. Vediamo il servizio curato da Salvo Orlando. Ancora una sconfitta pesante per il Castellammare Calcio a 5 nella quinta giornata del girone D del campionato italiano di Serie A2. Il team Rosso-Blu ha perso ieri pomeriggio con il punteggio di 5-2 al Palace Party di La Mezzia Terme contro il Coriaceo Royal Team guidato in panchina da Moreno Giorgi, giunto alla sua quarta vittoria in cinque gare in questo torneo. Le ragazze del tecnico Enzo Giacalone, riduci da un turno di sosta forzata per via della mancata gara interna in programma domenica 31 ottobre, non disputata contro la Serenitana, che ha avuto l'ok della Lega a causa maltempo per il rinvio del match al palagrimato di Alcamo al mercoledì 8 dicembre, contro i biancoverdi Ramettine hanno bissato il pesante KO per 7-0, patito due settimane fa a Napoli ad opera del Fusal Wolves. Al Palace Party i calabresi partono subito forte e al quarto minuto aprono le danze con il gol dell'1-0 di Aliotta, giunta già alla sua ottava marcatura stagionale. All'ottavo minuto ci pensa la laterale palermitana del Castellammare, Anna Ficarotta con una prudezza a sorprendere la disattenta retroguardia calabrese e a risabilire così la parità sul parziale di 1-1. Al tredicesimo le padrone di casa ritornano in vantaggio con Ferreira. Due minuti dopo De Sarro sigla il 3-1. Al diciannovesimo, un minuto prima del duplice fischio arbitrale, ancora Ferreira trafigge la difesa rosso-blu, portando il Royal Team sul 4-1. Nella ripresa, dopo vari tentativi a vuoto, le siciliane riducono le distanze al dodicesimo con il loro capitano, l'esperta universale balestratese Marina Piccolo, con una precisa stoccata a rete su assist da calcio d'angolo dell'ex di turno Clara Di Piazza. Tre minuti dopo ci pensa ancora De Sarro a firmare la sua doppietta personale e a mettere in freezer la vittoria finale per 5-2 del suo team. Con la debacca maturata in quel di Lamezia Terme, le Castellamaresi scivolano così all'ottavo posto in classifica, rimangono ferme a quota 6 punti, frutto di due vittorie e altrettante sconfitte in quattro incontri, considerando comunque che il mercoledì 8 dicembre dovranno disputare sul terreno amico del palagrimato di Alcamo il recupero contro la Serenitana. Il Royal Team Lamezia, dal canto suo, si gode un meritato terzo posto a quota 12 punti in gradotoria, con una sola lunghezza di svantaggio dalle due battistrada Futsal World West Napoli e Futsal Irpinia. Nel prossimo turno le trapanesi saranno impegnate nell'anticipo serale di sabato 13 novembre alle 20 sul parquet casalingo del palagrimato di Alcamo, dove saranno chiamate ad un pronto riscatto contro le temibili pugliesi del Women Futsal Club Grottaie, quarta in classifica a quota 10 punti, reduci dal brillante successo interno per 4-1 contro il team Scaletta.